Ciao a tutti patatini e patatine, benvenuti in questo nuovo video, in questo nuovo sfondo. Ve ne parlerò prossimamente, lo vedrete prossimamente, tranne in un video che l'avevo girato ancora nella vecchia postazione. Prossimamente se riesco sicuramente vi farò questo room tour, insomma, aggiornato e spero vi piaccia, abbiamo sistemato tutto quanto. Ma oggi non siamo qui per parlare della mia cameretta, anche se lo sfondo è molto faigo, mi piace un sacco. Ma siamo qui per parlare di questo incontro, di questo party, che ci sarà questo sabato 24 gennaio. Faccio questo video veramente molto alla buona, velocissimo, giusto per farvi sapere di questo incontro, per avvisarvi e per invitarvi a venire. Tutte voi, quindi dalle più grandi alle più piccole che mi seguono, che mi vogliono incontrare, che sono della zona di Milano. L'incontro si svolgerà alla Sefora di Corso Vittorio Emanuele, appunto, vicino al Duomo a Milano. E si terrà al primo piano dove c'è la boutique di Benefit. Benefit, appunto, mi regala questa festa, questa giornata, ci regala questo party, questa merenda insieme con dei dolcetti, di succo di frutta, biscotti, insomma, caramelle, di tutto. Ci sarà anche un modello dove faremo delle foto con questo modello e ci sarà una sorpresa. Quindi, veramente, io vi invito tutte quante, sarà una giornata all'insegna della femminilità, del sorriso, delle chiacchiere, veramente, possiamo stare tutti insieme. L'incontro sarà dalle 5 fino alle 6 e mezza, insomma, un'oretta e mezza per stare insieme. Io, davvero, so che il sabato magari potrebbe essere un po' scomodo per chi lavora o, non lo so, per chi va a scuola, per chi deve studiare, però la domenica non lo potevamo fare. Doveva essere di domenica, ma sono successe delle cose, insomma, e l'abbiamo spostata a sabato. Io spero non sia un problema per molti di voi. Vi invito davvero tutte e se riuscirete a venire mi farete la ragazza più felice di questo mondo, anche perché finalmente potrò incontrarvi dal vivo, rincontrare chi ho già incontrato, abbracciarvi, parlare, cioè, veramente, non siete timide, venite perché sarà una cosa veramente molto spartana, cioè, molto tranquilla, anche se comunque saremo da Benefit in una boutique meravigliosa, tutto rosa, floreale. Magari questo potrebbe mettere un po' soggezione a ragazze che non hanno magari mai partecipato ad incontri o che magari non mi hanno mai vista e quindi si sentono, non lo so, timide e tutto quanto, però, cioè, vedete la mia faccia? Guardatemi! Sono una che mette timidezza? No, dai! Quindi venite, davvero, vi invito calorosamente. Io spero ci sarete. Vi lascio nell'info box tutti i dettagli scritti meglio, in modo che potete appuntarvi, insomma, se deciderete di venire. E noi ci vediamo sabato. Per tutte le altre che purtroppo non possono esserci, che sono lontane e tutto quanto, ci vediamo qua su YouTube. Ho da caricare tre video e da montare tre video, quindi stay tuned perché saranno tre video veramente molto molto carini, quindi spero di caricarli subito, subito. Io vi mando un mega bacione, un abbraccione e ci vediamo sabato per tutte le altre qua su YouTube. Ciao patatini e patatini!